a presi sesamo una nuova trasmissione di teleweb di giornapoli sugli eventi estivi parti avaiano parti avaiano una bella idea di carmela carmela sta festeggiando il suono massimo come oggi è stato ieri che ha fatto lei ha invitato tutte le tue amiche a fare sto parti avaiano volete vedere cosa succede seguiteci aspetta mettete più la ferme fammela riprendere tutte quattro sono belle tutte girati tu che stai noi è la fine del mondo dove sei uscita dove sono noi sono la prima ma quando hai preso non dovevo proprio niente non dovevo proprio niente ma che si è nascuta ti sei nascosta carmè girate un attimo e come un sorriso scusi di quelli grossi brava tu come ti chiami marita marita guarda che bello ma con il pomeriggio si scioglie nooo scioglie chi vuole ho capito attenta amori attenta io non volevo fare le foto qualcuno che sta l'altro faccia le foto si vede pure la macchina fotografica la piglia macchina fotografica tu non l'hai detto il nome sai che sei un amore non l'amore tu saresti la gigante così così credi siete pronte forza tiratela più là perché se no qua non c'è il punto centrale qual è? arriva 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 così il punto centrale sono io? arriva arriva 4 6 7 2 ma qua sono di più 2 4 6 6 2 4 no vabbè 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 siete pronte? siete pronte? bene tirate 1 2 3 2 2 3 3 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 10 9 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 10 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 17 17 18 19 19 20 20 21 22 22 23 23 24